allora ragazzi benvenuti faccio questo video tutorial visto la situazione di emergenza in cui ci troviamo e visto il periodo di prolungato di chiusura della scuola vi suggerisco di scaricare questa applicazione perché ci consentirà di fare delle delle video lezioni e di non perdere il tempo inutilmente quindi sia da piattaforma android sia da piattaforma apple quindi con il vostro telefonino che sicuramente è più comodo per tutti però lo potete fare anche da computer macintosh oppure computer windows dunque da telefonino andate sull'apple store oppure sul play store e schiacciate cercate hangouts meet di google ok quindi questa è l'applicazione che ci serve e la scaricate applicazione naturalmente gratuita quindi non dovete pagare nulla quello che serve un account google una email google una gmail aprite vi trovate in questa in questa schermata cliccate su continua vi chiede se volete se volete accedere alla fotocamera dite di sì se volete accedere al microfono dite ok ok a questo punto dovete fare l'accesso accedi e vi dovete loggare come con un indirizzo email in questo caso io ho un indirizzo mail ok utilizzo di me di mit il tuo canti consente di utilizzare mit solo per partecipare a riunioni di altre persone per creare le tue riunioni devi utilizzare un account g suite attivato per mit allora che cosa vuol dire questo che io come insegnante ho un account gmail però un account istituzionale quindi fa parte della google suite e mi consente di mettere di organizzare delle riunioni e di invitare i miei alunni a partecipare i miei alunni oppure anche altri altri docenti in questo caso io ho utilizzato una mail di gmail ma è una mail personale non è istituzionale è il mio nome cognome chiocciola gmail.com mentre la mail che io utilizzerò per voi sarà un'altra email ma a voi non interessa quindi che cosa succede voi non avete una mail istituzionale ma deve essere comunque necessariamente una mail che è il vostro nome cognome mario rossi chiocciola gmail.com a quel punto schiacciate ok e gli chiede di inserire un co ragazzi buongiorno benvenuti inserisci un codice riunione ok io vi manderò via argo ma anche visto che abbiamo fatto il gruppo di whatsapp anche tramite whatsapp un promemoria un avviso un appuntamento un appuntamento per la nostra riunione vi manderò un messaggio simile la lezione di flauto per l'alunno mario rossi è fissata per lunedì ci sarà anche la data naturalmente dalle 10 alle 10 30 tramite computer smartphone clicca su partecipa alla riunione inserisci il codice questo è il codice potrebbe essere un altro però quando lo organizzerò poi vedrò seleziono il codice lo copio oppure posso anche scriverlo semplicemente e lo devo andare a inserire qua inserisci un codice riunione e incollo adesso non schiaccio partecipa alla riunione perché se no mi fa uscire dalla modalità di registrazione di questo schermo però schiaccerò partecipa alla riunione e poi dovrebbe o dovrebbe essere già dentro non mi ricordo se c'è da cliccare un'altra volta partecipa o chiedi di intervenire comunque questo è semplicissimo dall'altra parte noi avremo un appuntamento se do l'appuntamento a mario rossi alle 10 io almeno qualche minuto prima sarò presente quindi alle 9 59 potete già chiedere di entrare alla riunione se c'è prima di voi qualche altro compagno non c'è problema vi faccio intervenire ci salutiamo e poi usciamo una tranquillità per i genitori non non è necessario la posta elettronica non è necessaria l'email che inizialmente vi avevo chiesto ma semplicemente l'email serve serve ai ragazzi per loggarsi correttamente con una mail per entrare in in hangout smith ok tenete d'occhio quindi il argo e buon lavoro e buono studio a tutti grazie